Stiamo a bandire? Ma che bello! Ma che bello qua, per favore! Di qua, al centro, la parte della nostra strada è lì qua. Ci non è? Dai! No, no, no! Adesso è lui! Adesso è quello che... Mi ha mentito! Mi ha mentito! Il problema è che se battiamo formigoni a giugno non è il poro, non è il poro! La Fondazione Ascoli ancora una volta si distingue per l'originalità delle idee che ha, per l'intelligenza delle iniziative che propone e a cui destina le risorse che raccoglie. Quindi aiutare i bambini dell'operto ecologico, comprare questa auto per accompagnarli alle loro cure, è una cosa che merita questo e anche per altri.